Adesso parliamo di un altro diritto da mettere in pratica, è il diritto di sposarsi se si è in due e se si ha voglia di farlo. Allora ci spostiamo un attimo da Piazza del Cannone e andiamo in provincia di Torino, andiamo a Pinerolo. Lì da una ventina d'anni c'è un parroco che credendo di interpretare il magistero della Chiesa Cattolica sposa chiunque si voglia bene. E' con noi Don Franco Barbero. Sono lietissimo di essere qui con voi a questa festa della laicità e dei diritti. Quindi come cittadino e come prete teologo partecipo pienamente a tutte le cose che qui sono state dette. Dunque ma vorrei ricordarvi siccome questa è una festa che stamattina il colonnato di San Pietro ha avuto uno zumani. L'avete saputo? Il professore di teologia della Gregoriana e dell'altra facoltà teologica Mariana, il sottosegretario della Commissione Internazionale di Teologia Cattolica, ha detto sono un prete, sono un teologo, sono un omosessuale felice. Vi dico, leggetelo nei media di oggi, la bellissima intervista pubblicata integralmente dal Corriere della Sera. L'ho appena avuta da un amico mentre sono arrivato. Mi sembrava uno zumani evangelico. Questa roba qui ha determinato dal Vaticano un'ampia richiesta del 118 romano, che non è riuscito ad esaudire le richieste dei cardinali già pronti per il sinodo. Ecco, volevo dirvi che questa è una cosa molto molto bella. È successa oggi, non potevamo darla prima, ma vorrei aggiungere un particolare. Voi ricordate che c'è stato un tempo nella storia in cui Galileo invitava i cardinali a guardare, a guardare nel suo cannocchiale e loro dicevano no, non possiamo guardare nel cannocchiale. Non avevano paura del cannocchiale, avevano paura di ciò che avrebbero visto. Ebbene, mi sembra che una parte della Chiesa, quella gerarchica, ampiamente rifiuta di guardare ad occhi aperti questa società. e si inventano dei pasticciacci alla gender per non riconoscere che laicità, diritti, pluralità dell'amore è a crescimento. Chiuderci nella gabbia anche dorata di un modello unico è perdere la grandezza dell'amore delle donne e degli uomini. Non conta essere omosessuale, transessuale, bisessuale. Conta che tu sia una persona che ama. E non conta essere cattolico, protestante, buddista, islamico, ateo. Conta essere donna uomo, conta amare. Questo guardate che ve lo dico come cittadino attivo, come vecchio di 77 anni, come teologo cristiano, che ha passato la sua vita nell'impegno a studiare le scritture. Gesù non ha costruito dei muri, non ha modellato una famiglia, ha parlato di amore. Ed escludere qualcuno dall'amore è una bestemmia contro Dio, è una bestemmia contro la creazione. Vorrei dirvi che di queste bestemmie è piena la storia della Chiesa a cui io appartengo. Ma io non me ne sono andato. Ho pensato di rimanere dentro con centinaia, migliaia di teologi, di preti. Pur non avendo il dono dell'omosessualità, ho sempre apprezzato chi ce l'ha. Ho sempre apprezzato che la vita si può vivere amando in infinite maniere. In infinite maniere. Vorrei dirvi una cosa ancora. Siamo uniti davvero. Non facciamo delle religioni, delle barriere, dei muri. Vedo le barriere degli atti, ma come sono contento che ci sia finalmente la libertà di essere ciò che siamo. Ma in quest'Italia abbiamo alcune difficoltà, alcune cose da archiviare. Un concordato, ad esempio. Dobbiamo fare delle battaglie comuni perché tutte le religioni siano libere, ma nessuna sia privilegiata e nessuno sia imposta. Questo è l'orizzonte della cultura mondiale. Ma come si fa a perdere questo treno della laicità, dell'antropologia, della psicanalisi e tornare a fermarci a delle istituzioni antiche che sono ancora figlie della cristianità medievale. Un sistema concordatario che mantiene ancora qualcosa della società scristiana. e vorrei spendere solo una parola semplice, so che dobbiamo essere brevi. C'è la fabbrica del pregiudizio, ma vengono a dire che con questo gender, che in realtà è un'invenzione ideologica, mentre c'è la seria riflessione sui generi, il movimento delle donne, la psicanalisi, l'antropologia, le registrazioni di genere sono davvero importanti, ma il gender l'avete inventato alla destra dei cattolici e compagni vari, compagni che ho la parola impropria, ecco, alleati vari, l'hanno inventata e dove ci vorrebbe, nella sana, vera, vera, vera laicità, di cui questa sera stiamo insieme riflettendo, ci vorrebbe un'educazione affettiva, sentimentale e sessuale, altro che la denuncia dicendo certi insegnanti insegnano ai ragazzi a masturbarsi, a toccarsi, ma non sentite voi nella vita, nelle relazioni che abbiamo ogni giorno, quanto è bello guardarci negli occhi, abbracciarci, nel rispetto, nelle nostre differenze, questa paura del corpo è segno che chi mette in giro queste idee ha dei problemi, ma tanti, tanti, tanti. Vorrei finire, forse ho esaurito il mio tempo, dunque, vorrei dirvi una cosa, attenzione, gli omosessuali, i lesbici, i transessuali, tutta la sigla, fino alla Q, non vuole assolutamente accontentarsi di un accontentatino, mi capite? Ci danno qualche piccolo diritto, no, no, nessun contentino, o c'è il matrimonio, tutti i diritti alla pari, alla pari, senza diminuzione di qualità, di diritti, ottenetevelo pure, ci vogliono pienezza di diritti, questa è la cosa che non possiamo sopportare, e poi sentite, io domenica sposavo pubblicamente due donne, ho dato la benedizione, che bello, sono al numero 347, e bene, i vescovi non sono proprio d'accordo, ma si può vivere anche senza la benedizione dei vescovi, allora il vero problema, il vero problema è questo, che anche sto linguaggio, bello, bravo, di Papa Francesco che poveretto fa ciò che può, è attornato da una canalia di cardinali che non vi dico, ebbene, non basta il linguaggio della misericordia, rispetto, comprensione, sono tutte carezze per poi dargli uno schiaffo, o la misericordia è seguita dalla laicità dei diritti, o è una parola ipocrita, misericordia, rispetto, sono l'anticamera dei diritti, oppure sono una farsa e una ipocrisia, peccato davvero che io abito molto lontano e devo partire per non poter prolungare con voi questa festa, vi auguro una serata di gioia, di speranza per caricare le batterie per le prossime lotte. Avanti, ciao! Ciao!